Queste sono tecniche di Iain, difesa contro più avversari, sempre con il massimo controllo. L'ultimo. 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 Oh, oh. Oh, oh. Hai. Hai. Il controllo viene molto studiato. Se non ci fosse questo, non ci avrebbero un sacco di incidenti. Molto bene. Ecco, questo è un sacco di incidenti. Grazie. È un sacco di incidenti di un rencontri fluo, HarryIX. Drò,GI un riso che non si chiama утruito! E le faccio alla chiamava parte.